Ciao e benvenuto al videocorso investi in immobili tornando a scuola. Io mi chiamo Francesco Gentile e ho 40 anni, sono un investitore immobiliare e agente immobiliare. Dal 2007 mi occupo di investimenti immobiliari nella nicchia dello short trading immobiliare e stralci immobiliari. Nel 2011 ho creato il blog dedicato agli investimenti immobiliari www.relaximmobiliare.com e www.stralcioimmobiliare.com. Sono anche direttore della prima scuola online d'Italia, l'Academy Executive, e di Master Scuola per Stralci Immobiliari. I blog trattano argomenti dedicati agli aspiranti investitori immobiliari senza esperienza e con poche risorse. In questo videocorso capirai se anche tu puoi investire in immobili, perché investire in immobili è l'unica salvezza in questo periodo di crisi, e come si può senza esperienza iniziare ad investire in immobili. Per rispondere a queste domande vediamo come hanno fatto in passato i grandi investitori che sono partiti da zero. Hai mai avuto la sensazione di essere in un meccanismo preimpostato? Hai mai notato che lavori per mantenerti e per pagare le tasse? Pensi mai a quando andrai in pensione a 70 anni e devi sperare che ti basti quello che ti passa allo Stato? Vorresti comprare qualche bene di lusso ma lasci perdere perché non puoi permettertelo? Ti senti mai in colpa se compri qualche cosa di costoso? Pensi anche tu che prima o poi qualcosa combinerai di extra lavoro ma quel giorno non arriva mai? Dipendi solo dal tuo lavoro principale? Se smettessi di lavorare potresti vivere dignitosamente? Bene, se ti rivedi in queste affermazioni ti comunico che sei appunto nella ruota del criceto. Che cosa significa la ruota del criceto? Cioè praticamente significa che fai sempre le stesse cose come il 98% della popolazione. Se ci pensi un attimo, hai un lavoro, paghi le tasse, poi aumenti il tuo comfort, quindi cerchi di migliorare la tua situazione per te e la tua famiglia, e poi lavori per non perdere queste cose conquistate. E così praticamente finché campi, come in una ruota, facciamo praticamente poi sempre le stesse cose, sperando in qualcosa di migliore ma poi alla fine dei conti questa ruota qui inevitabilmente ti fa fare sempre le stesse cose, quindi lavorare, mantenere quello che ti sei guadagnato, pagare le tasse e lavorare. Quindi questo è un sistema che in questi ultimi vent'anni non è più un sistema redditizio perché siamo passati in un sistema molto diverso. Purtroppo solamente il 2% della popolazione applica un altro sistema e in effetti, se tu ci fai caso, tutti i tuoi conoscenti, amici, insomma tutte le persone che ruotano intorno a te, hanno purtroppo questo sistema qui, ossia quello di lavorare per mantenersi. E non è una cosa che è il massimo della vita, insomma. Puoi dire anche tu basta questo meccanismo e basta essere comunque consapevoli che sei nella ruota del criceto. La cosa assurda è che la difficoltà non è tanto poi uscire fuori da questo meccanismo, ma la difficoltà è capire che in effetti siamo dentro questo meccanismo, perché la maggior parte delle persone non se ne accorge neanche, pensa che sia normale, si rassegna questa situazione qua di lavorare per poter sopravvivere. Anzi, ci si aggrappa tantissimo all'unico lavoro che troviamo e lo difendiamo con le unghie, ed è giusto che sia così, ma purtroppo non ti può dare quella serenità di cui ogni persona avrebbe bisogno. Perché comunque è giusto anche vivere, ma essere anche sereni finanziariamente. Il 98%, come ti ripeto, non sa neppure di esserlo. Tu conosci Kiyosaki? Kiyosaki praticamente è l'autore del best seller Padre ricco, padre povero, puoi trovare tranquillamente il libro nelle librerie della tua città, e praticamente, ti faccio un piccolo riassunto, si è accorto anche lui di essere, quando era più giovane, nella ruota del Criceto, ed era finito per questo meccanismo perverso a vivere addirittura nella sua automobile con sua moglie, perché aveva perso praticamente tutto. Era diventato povero, ma poi ha deciso di uscire da questa ruota, quindi alla fine ha cercato di trovare una soluzione che lo ripagasse con gli interessi. Ora, grazie agli investimenti immobiliari, è uno stimato formatore e investitore immobiliare, nonché milionario. Tu conosci anche Robert Allen? È l'autore del best seller Nothing Down. Nothing Down è un libro purtroppo scritto in lingua madre, quindi in inglese, e per chi non ha conoscenza della lingua è un po' complicato leggerlo, perché comunque è tutto scritto in lingua originale. Lui praticamente, in questo libro, nei suoi libri, spiega come ha fatto con soli 500 dollari a poter comprare e rivendere immobili senza anticipo. Quindi con soli 500 dollari è riuscito a dimostrare, portandosi dietro appunto un giornalista, come riusciva a comprare e rivendere immobili e guadagnare tanti soldi. Quindi l'ha proprio dimostrato portandosi dietro un giornalista, da lì è poi nato il suo libro, è diventato veramente famosissimo, e ha insegnato a tantissimi americani a comprare casa e rivenderla senza anticipo e senza soldi. Anche lui, appunto, come caratteristica aveva che è iniziato da zero. Io mi sono ispirato a questi personaggi tanti anni fa, leggendo i suoi libri, sono riuscito ad applicare nel mercato italiano le loro filosofie e strategie vincenti. Io, purtroppo, anche io ero dentro la ruota del Criceto, e leggendo appunto per caso uno dei loro libri, mi sono accorto che ero dentro questo meccanismo perverso. Se non avessi letto i loro libri, probabilmente non me ne sarei mai accorto. Ora, comunque, sono un investitore immobiliare, e formatore anche di aspiranti investitori immobiliari senza esperienza. Come ho fatto a imparare le regole per investire in immobili senza esperienza e senza soldi? Semplicissimo. Ho studiato i loro libri, i loro corsi, quindi praticamente sono tornato a scuola. Ho studiato le regole del gioco, ho tentato, ritentato, non mi sono abbattuto ai primi ostacoli, ovviamente normali quando si affronta una materia nuova, e alla fine comunque ho vinto e sono riuscito a uscire anch'io da questo meccanismo. Ho creato tantissimi corsi sulla formazione dedicata a aspiranti investitori immobiliari. La caratteristica di questi corsi è che sono rivolti a inesperti e con poche risorse economiche. Ho trovato più soddisfazione dedicarmi a questa nicchia, che non svolgere formazione avanzata su nicchie avanzate, ma ho preferito dedicarmi a persone che non hanno nessuna esperienza. Persone che vogliono uscire appunto dalla ruota del criceto e raggiungere la libertà finanziaria applicando tecniche di investimento redditizie. Ho creato appunto delle tecniche che sono molto conosciute qua in Italia, ma solo da professionisti del settore. Quindi le ho solamente migliorate prendendo spunto da questi libri americani e praticamente spiego come si fa ad applicare lo short trading e le sublocazioni. Lo short trading che cos'è? È una tecnica fondamentale per chi non ha possibilità di acquistare l'immobile, quindi non se lo può intestare. È senza risorse economiche e quindi la caratteristica positiva dello short trading è che puoi promettere di comprare ad esempio un immobile a 100.000 euro, ma puoi trovare un nuovo acquirente prima di fare l'atto, quindi prima di saldare, a 130.000 euro. Quindi se tu sei capace di fare questo, i 30.000 euro sono tuoi perché il saldo è l'effetto a poi il nuovo acquirente. Ovviamente questo è un esempio molto semplificato, ma è proprio tutto il meccanismo e la potenzialità dello short trading. E quindi non ti deve far intestare nessun immobile, quindi non spendi soldi in tasse, imposti di registro e spese notarili. E puoi promettere di comprare la casa, ma non sei obbligato. Quindi se tu trovi nel frattempo un altro acquirente, puoi vendere l'appartamento, magari dopo che hai fatto delle migliorie, una rintinteggiatura, insomma hai applicato dei segreti, delle tecniche, dei professionisti, e praticamente i tuoi soldini sono lì belli pronti per poter essere incassati. La caratteristica principale dello short trading, come ti dicevo, è la mancanza di intestazione. Quindi con pochissimi capitali, proprio come Robin Allen ha dimostrato di farlo negli USA, portandosi dietro un giornalista, con pochissimi euro si può pilotare l'intero valore dell'immobile e poterlo rivendere a un'altra persona che poi si interesserà all'immobile. Questa è la caratteristica principale. Quindi, come vedi, non servono grandi capitali, ma pochissime risorse. Altra tecnica importante è quella delle sublocazioni parziali degli immobili. È una tecnica fondamentale per chi vuole crearsi una rendita extra mensile. Quindi, senza essere proprietario dell'immobile, puoi sublocare parzialmente l'immobile e poter usufruire del canone che ti dà l'inquilino che tu hai trovato. Quindi, in poche parole, la caratteristica positiva è che se devi affittare una casa di tua proprietà, la devi comunque comprare, sostenere delle spese, o mutuo, quindi tirare fuori i capitali, pagare le spese di gestione straordinarie di amministrazione, quindi tipo rifacimento di tetti, facciate, insomma, di più ne ha più ne mette, la sublocazione, invece, non essendo proprietario, non hai spese di straordinaria amministrazione, non hai ovviamente la casa di proprietà, quindi non hai tirato fuori il capitale. Quindi la rendita che ti viene è completamente pulita, ovviamente pagata alla differenza del canone principale versato al proprietario. Quindi, studiare le tecniche per sublocazioni è quello di sapere trovare immobili competitivi che lasciano un ampio margine di guadagno anche a te, subaffittando appunto l'immobile. Per chi è ideale anche la sublocazione? Per chi ovviamente ha poche risorse, per chi non vuole comprare l'immobile e poi affittarlo, risparmiare l'intero capitale dell'immobile che può essere dedicato, se ce l'hai, ad altri investimenti, risparmi l'IMU perché non sei proprietario e non la paghi, spese straordinarie, se ti fanno una facciata non ti interessa, spese notaribili perché non comprando l'appartamento non hai nessuna intestazione da fare. È ideale per chi vuole raggiungere il proprio stipendio mensile, quindi se tu prendi ad esempio 1.500 euro al mese di stipendio, sono un'ipotesi, puoi raggiungere con due o tre sublocazioni appunto lo stesso ammontare del tuo stipendio, quindi che questa cifra qui potrai disporne a tuo piacimento per le tue esigenze extra quotidiane, quindi per poter avere qualcosa in più del benessere economico, insomma potrai farci quello che vuoi, senza sentirsi in colpa perché comunque sono spese che ti stanno arrivando da un reddito extra e non dal tuo lavoro principale. Ti assicuro che c'è una bella differenza, spendere i soldi per il lavoro principale in cose che magari sono viste come dei lussi, come dei vizi, come insomma un viaggio, un'auto, una moto, eccetera, mentre invece poterli spendere perché ti arrivano da una tua capacità di saper sfruttare tecniche di investimento e tutta un'altra cosa. Come fare a imparare queste tecniche redditizie? Se le sai già applicare ovviamente non ci sono problemi, puoi solamente vedere questo video tanto per poter confrontare le tue conoscenze con le mie, ma se non le conosci l'unico modo è studiarle. Non è possibile investire senza soldi se non conosci le regole del gioco, non sapresti neanche da che parte iniziare. Se vuoi provare domani a investire nello short trading o anche nelle sublocazioni, ti assicuro che senza conoscere le regole del gioco, abbandoneresti l'iniziativa in poco più di un giorno, perché non sono cose che vengono spiegate quotidianamente, quindi non ne sentiamo mai parlare, non sono proprio nel nostro modo di pensare. Quindi devi solamente studiare queste tecniche. Quindi vuoi guadagnare dei soldini con gli immobili? È possibile. Vuoi guadagnare con gli immobili senza esperienza? È possibile. Vuoi guadagnare con gli immobili senza studiare le regole? Lascia perdere perché comunque non hai nessuna possibilità. L'unico modo è tornare a scuola e imparare da chi è già esperto delle regole del gioco e non ci sono appunto altri modi, perché l'unico modo è quello di copiare gli altri. Ma i risultati che otterrai possono farti uscire da questo meccanismo che probabilmente non ti soddisfa. Ecco perché ho creato appunto l'Academy Executive, la prima scuola online per aspiranti investitori immobiliari. È una scuola che ho creato subito dopo i miei primi corsi online come alternativa alla crescita personale. In effetti l'idea di una scuola di essere seguiti passo passo, giorno dopo giorno, step dopo step, online, senza recarsi appunto alla sede della scuola, è la massima comodità per chi ha il suo lavoro quotidiano, per chi si vuole gestire con la massima tranquillità il tempo, quindi puoi studiare la notte, puoi studiare la mattina, insomma quando vuoi tu, essendo però seguito direttamente tramite la mia assistenza. È la prima scuola in Italia, non la trovi da nessuna parte, ho cercato in rete, non esiste una scuola simile dedicata agli investimenti immobiliari. Esistono scuole simili ma per altri tipi di settori come conoscere, ad esempio, costruire pagine web, come gestione di contabilità, tantissimi altri settori, ma sugli settori degli investimenti immobiliari non la trovi da nessuna parte. È giunta questa Academy alla terza edizione ed ha creato nelle precedenti edizioni numerosi neoinvestitori immobiliari che ora sono liberi finanziariamente. Partiamo dal fatto principale che è dedicata ai inesperti, questo te lo dico, quindi non ti devi preoccupare, l'obiettivo principale è quello di crescere una persona senza esperienze e farlo diventare capace in determinate nicchie del settore immobiliare. Quindi non ti parlerò di investimenti dedicati a chi deve avere grandi capitali, ma di tecniche di investimento dedicate a chi non ha risorse. Quindi, come ti avevo fatto l'esempio prima, in principal modo, sullo short trading. Per prima cosa. È divisa, come ogni scuola, in classi o livelli. Segue direttamente gli studenti, consegna le lezioni e corregge gli esercizi. Controlla i progressi e coinvolge, appunto, e ti spinge anche all'azione, perché comunque non è come un libro o un e-book che lo legge e sei tu da solo, ma vieni coinvolto e comunque abbiamo dei confronti con le edizioni precedenti, quindi sappiamo anche che risultati puoi ottenere, quindi sapere se sei in linea o meno con gli obiettivi. Vediamo ora com'è composta e che cosa imparerai. Come ti dicevo prima, è divisa in livelli. I livelli sono stati chiamati il livello gold, che è il livello base, il livello silver, che è l'intermedio, e il livello VIP, che è il livello nascosto segreto, che ci si arriva solamente se si hanno determinate caratteristiche. Vediamo un attimo il livello gold, che è il livello principale, il livello iniziale, il livello dove parliamo dell'ABC degli investimenti immobiliari. Un po' come la prima elementare per chi va a scuola da bambino, deve incominciare a saper conoscere gli investimenti immobiliari proprio dall'ABC, dal livello più semplice. Infatti ti dico, se una persona è esperta in investimenti immobiliari, è consigliabile effettuare un livello VIP, un livello più avanzato, perché questo livello è dedicato solamente per chi non ha esperienza. È un punto di partenza per la formazione iniziale. La tua preparazione sarà di livello 1, ossia partendo dall'ABC dell'investitore immobiliare. Questo primo livello dura circa 9 settimane. Al termine del livello ti verrà anche rilasciato l'attestato gold, che praticamente significa che hai conseguito un primo step, un primo passo importante, che ti potrà dare la possibilità già di poter concludere le tue prime operazioni. Quindi, se conseguisci il livello gold dell'attestato, significa che saprai fare le seguenti cose. Conoscere il vocabolario dell'immobiliarista, imparare a valutare gli immobili da solo in qualunque parte d'Italia, saper usare il programma price per calcolare i prezzi medi della tua zona, saper fare offerte creative, l'accessione del preliminare senza intestazione, che sarebbe poi lo short trading, acquistare il preliminare e cederlo senza anticipo, conoscere delle tecniche per evitare gli anticipi, ce ne sono tantissime, riconoscere un affare immobiliare, formulare offerte con il 30% di sconto, scovare i famosi venditori motivati, ossia i don't-waters, che sono quelli che andiamo a caccia tutti i giorni, noi investitori, formarsi e convenzionarsi con una squadra di professionisti del settore, conoscere i cambi di destinazione d'uso e trarne vantaggio, le famose opzioni di acquisto con riscatto, che ti permettono totalmente di evitare anticipi, visitare immobili giusti e fare offerte con sconto, ad esempio anche come ristrutturare e rivendere l'immobile con profitto, perché ci sono delle semplicissime tecniche, ma mai applicate, che ti permettono di valorizzare un immobile anche del 30%, e tanto altro ancora. Tutto il materiale sarà in vario formato, questa è la caratteristica principale dell'Academy, non è un semplice ebook, non è una semplice lettera, ma è un vero e proprio cocktail di video, infatti vedrai che ci sarà ogni volta dei video, quindi dei videocorsi, il materiale sarà fornito anche in versione audio, perché comunque se vorrai ascoltare magari con il tuo mp3 le lezioni, potrai farlo. Sarà fornito anche in versione pdf, quindi in comodo formato ebook, per poter leggere le lezioni e vedere anche gli esercizi e potermeli poi consegnare. Quindi tutte le versioni possibili, per poter avere il massimo della scelta. Avrai anche, a fine lezione, degli esercizi settimanali da poter fare a casa con calma, e quindi simulare operazioni, simulare allenarsi, e poi consegnarmeli per avere il parere personale mio, così potrai vedere se stai facendo degli errori ed essere corretto al momento giusto, perché un conto è l'allenamento, un conto poi quando farai sul serio. Quindi il tutto con il mio coaching, che via mail seguirà i tuoi progressi, passo a passo, fino al conseguimento dell'attestato di livello gold o di livello silver. Ogni settimana automaticamente riceverai i moduli in base al tuo livello. Per il tuo studio basterà seguire l'ordine con cui sono state messe le immagini dei prodotti. Basterà cliccare nella descrizione dell'argomento e cominciare a studiare. I moduli sono fatti per essere studiati con attenzione e con esercizi finali da consegnare alla mail dedicata. Ok? Questa è la caratteristica principale. Ogni volta tutti gli esercizi potrai consegnarmeli via mail. Prenditi tutto il tempo che vuoi ma l'esercizio settimanale può fare la differenza tra un buon investitore capace e uno mediocre. Così ogni settimana. Passiamo adesso al livello silver, un livello intermedio più avanzato. Una volta appunto terminato il primo livello gold, se vorrai aumentare il tuo bagaglio di informazioni preziose, potrai appunto, se vorrai, entrare nel livello silver. Il livello academy silver è un livello avanzato che si apre automaticamente, quindi, se decidi di continuare, dopo l'attestato di livello gold. Entri in un livello d'elite dove la formazione è più avanzata. In quel momento comincerai a formulare le tue prime offerte creative, avrai la tua squadra e quindi le tue esigenze cambieranno, avrai bisogno di affrontare nuove sfide e avere i primi risultati economici. Al termine di quel livello, che dura circa un paio di mesi, avrai l'attestato di livello silver che significa che saprai fare le ulteriori seguenti cose. Formulare offerte d'acquisto e concludere anche la tua prima operazione di cessione del preliminare. Sfruttare le potenzialità delle sublocazioni. Formarsi in un'allenità mensile senza essere intestitario dell'immobile. Raggiungere gli obiettivi prefissati per numero di operazioni. Gestire rapporti con la squadra professionisti. Individuare un immobile da gestire con le opzioni d'acquisto. Saperti far finanziare totalmente. Ottenere finanziamenti con metodi alternativi. Gestire i preventi mensili derivanti dalla sublocazione. Come si sterare un immobile e guadagnare con gli optional. E tanto altro materiale ovviamente avanzato. L'ultimissimo livello è il livello VIP. È un livello segreto, è un livello nascosto e il più discusso. Molti studenti mi chiedono di poter entrare direttamente in questo livello e anche a volte offrono qualche soldo in più dell'abbonamento mensile. Ma questo è un livello che è molto avanzato ed è dedicato solamente a chi ha concluso delle operazioni nei precedenti livelli perché comunque qui entri a far parte del gruppo dei migliori investitori che in passato come te hanno percorso le tre tappe dell'Academy quindi non sono investitori che sono nati già preparati ma hanno comunque effettuato lo stesso tuo percorso. Ma per poterci entrare bisogna avere dei requisiti perché se no entrare in questo livello senza avere determinate caratteristiche significherebbe per te perdere del tempo perché comunque si parla di cose molto più avanzate insomma di operazioni ad esempio in gruppo partecipazione ad esempio puoi partecipare gratuitamente alla formazione in aula raccontando la tua esperienza e le tue performance quindi io come formatore ogni anno conduco delle formazioni individuali o di gruppo nelle varie aule in Italia e ovviamente invitiamo anche persone come te che hanno raggiunto degli obiettivi per poter raccontare le proprie esperienze ovviamente se non è concluso un'operazione non sei ancora capace è inutile che vai a parlare di fronte delle persone sì potrai vederti il corso gratuitamente e risparmiare migliaia di euro ma comunque non puoi raccontare delle bugie ai nostri frequentatori dell'aula quindi devi avere delle caratteristiche per entrare in questo livello il livello appunto è solo su invito e bisognerà avere dei requisiti ben chiari il tutto ovviamente comunque tutti i livelli sono sempre come a scuola con la mia assistenza diretta quotidiana via coaching mail e con la consegna dell'attestato dell'academy al termine appunto di ogni livello questo te l'avevo già detto è giusto che tu lo sappia potresti chiedere ma quanto dura il percorso academy beh il minimo percorso consigliato è il livello gold dopo sei tu a decidere già il livello gold ti darà delle capacità di condurre operazioni di short trading è una prima nicchia va bene però se vuoi continuare poi ad esempio la tua preparazione conoscere nuovi argomenti nuove tecniche basta da continuare a ricevere le lezioni quindi l'academy dura affinché ti soddisfa non c'è nessun vincolo se non quello di frequentare il primo mese che è quello che ti darà appunto le prime lezioni ma se non ti soddisfa o pensi di poter camminare ormai da solo ce l'hai fatta ti senti sicuro puoi tranquillamente cancellarti senza nessun vincolo per il mese successivo sono io quindi siamo noi del gruppo relax immobiliare a doverti dimostrare che il valore di questo materiale è veramente elevato poi alla fine sei tu il giudice di te stesso sarai te con la tua testa a decidere se continuare o meno quindi non ho messo nessun vincolo trimestrale quadrimestrale eccetera come magari ci sono molti pacchetti su internet ma ogni mese siamo noi a doverti dimostrare che il materiale è veramente di valore ok? siamo così sicuri che appunto diamo la possibilità di poterlo fare mensilmente quanto costa l'academy l'academy è un master mensile ogni mese si paga una quota fissa quindi ogni mese decidi se continuare o meno il percorso se decidi di continuare nel mese successivo pagherai appunto la quota il valore delle informazioni contenute è veramente inestimabile ti assicuro che ci sono in questi tre livelli oltre 7-8 anni di esperienza ma non è solamente l'esperienza ma è tutti gli errori e le facciate e gli insuccessi che comunque un'attività come questa per chi non ha esperienza può affrontare anche io quando ho iniziato ho preso tantissime insomma porte in faccia ho preso tanti no ho sbagliato tante volte quindi avere delle informazioni che ti permettono di evitare le fregature tra virgolette che ho preso io gli errori che ho commesso veramente ha un valore inestimabile perché se tu provi da solo leggendo solamente un libro un qualsiasi libro sugli investimenti come ho fatto io sì puoi farlo ma ti assicuro che non avere un contatto diretto non avere assistenza e chiedere ma posso fare così ma sto sbagliando essere ripreso magari interpreti una frase in un modo invece poi è tutto da fare il contrario quindi ti assicuro che ha un valore inestimabile perché tu sei benissimo quando si affronta una nuova attività commettere errori è normalissimo anche perché comunque ci sta l'errore ma con i miei consigli e avvisandoti di non fare in questo modo perché io ho sbagliato ti farà risparmiare tantissimo tempo e tantissimi soldi ti assicuro basta pensare a una sola operazione chiusa in profitto quindi la tua prima operazione applicando queste tecniche dell'Academy ti sei ripagato la quota mensile per decenni ma ho voluto comunque fissare il costo mensile a una cifra abbordabile quindi tutta questa premessa non è per dirti che costa un occhio della testa assolutamente ma l'ho voluto mettere a una cifra abbordabile so di parlare anche comunque con persone che magari hanno un po' di insomma dubbi magari non sono sicuri che questo percorso sia veramente fenomenale come sto dicendo eccetera quindi mettere una cifra proibitiva diventava appunto controproducente per te e per me quindi ho messo la cifra a una cifra abbordabile per tutti l'academy costa come un toast e una bibita che prendi in pausa pranzo quindi se ogni giorno tu prendi un toast e una bibita praticamente mensilmente vai a spendere quello che ti costa l'academy ossia 97 euro mensili 97 euro mensili appunto sono il costo quotidiano di una bibita di un toast preso appunto in un bar in una pausa pranzo insomma una cifra ampiamente sostenibile e facilmente recuperabile dalla tua prima operazione anzi ne recupererai tantissime di lezioni dalla tua prima operazione questa cifra è una cifra provvisoria non è destinata a durare a lungo cambio molte volte i prezzi e tendo insomma a vedere anche poi in base al numero di iscritti che ho perché non ne riesco a seguire tantissimi quindi l'unico modo per poi accorciare gli iscritti è quello di aumentare poi la quota posso aumentare la quota mensile senza preavviso in questo momento costa 97 euro quindi il momento di agire è adesso domani probabilmente ricordati il meccanismo perverso dove ti trovi in questo momento quindi i tuoi impegni quotidiani la tua vita normale ti faranno dimenticare questa opportunità quindi riflettici bene prima di decidere di non iscriverti perché comunque domani potresti già aver dimenticato tutto questo video e quindi continuare a fare la tua vita di sempre ok? questo è molto importante che tu lo sappia bene se decidi ora comunque ti voglio incentivare ti capiteranno due belle cose la prima è che se ti colleghi all'indirizzo che ti apparirà appunto alla fine di questo video poi in sovrampensione ti apparirà un indirizzo se ti colleghi a quell'indirizzo lì avrai il prezzo scontato ossia 87 euro anziché 97 la seconda cosa è che l'iva la paghiamo noi cosa significa? che ovviamente la nostra è una società quindi i prezzi sono tutti più iva ma se ti colleghi a questo sito qui per incentivarti ad iscriverti ora per farti capire che il momento di agire è adesso invece di pagare 97 euro più iva pagherai 87 euro compresa iva quindi anziché 117 euro pagherai 87 euro iva compresa se ti iscrivi in questo momento dal link che poi tra un po' ti comparirà sono 30 euro di sconto insomma stiamo parlando di diventare ricchi di guadagnare bene però in questo momento 30 euro sono sicuro che possono farti veramente piacere risparmiarli come hai potuto notare questa offerta è troppo vantaggiosa per passarci sopra in fondo cos'è che ti sta più a cuore la tua serenità finanziaria cioè in questo momento stai pensando a te stesso alla tua serenità al tuo benessere insomma pensare che se diventi bravo in questa inizia degli investimenti immobiliari insomma vedere anche la faccia dei tuoi familiari dei tuoi amici quando investi in immobile che magari te di immobile non avevi neanche una palle di idea di come si potesse iniziare insomma è una bella soddisfazione per tutti quanti e se la vuoi ottenere devi dare qualcosa di diverso quindi devi comunque studiare non puoi fare sempre le stesse cose perché comunque non cambierà mai niente investire in immobili con l'academy è semplice redditizio è divertente e non sei mai solo perché comunque avrai un contatto quotidiano diretto con me il momento è arrivato ok l'abbonamento academy è gestito dal paypal ho scelto paypal perché è il primo sistema al mondo per gestione di pagamenti automatici e anche il più sicuro paypal non so se lo conosci viene usato tantissimo se compri su ebay per evitare le classiche truffe che ci sono su ebay quando magari ti spediscono ti dicono che ti vendono un prodotto che non so un dvd a 2 euro poi alla fine questo dvd non arriva mai con paypal questo non può accadere perché basta schiacciare il tasto blocca la transazione che ne automaticamente paypal interviene e se in caso ci fosse una truffa di una persona che ti ha venduto un televisore a 100 euro invece valeva 1000 ma era una truffa paypal in questo caso ti evita questa truffa perché basta chiamare questo moderatore e ti risolve i problemi io ho scelto paypal non a caso perché anche tu potresti pensare che questo è un prodotto che non fa per te in questo caso se fosse così paypal basta schiacciare il tasto per poter aprire appunto una contestazione ovviamente paypal è fatto per difendersi dalle truffe quindi il prodotto mio la lezione la ricevi quindi automaticamente non c'è nessuna truffa l'unica cosa che può essere che magari non ti soddisfa il mio il mio prodotto in questo caso quindi sei tutelato anche con paypal è il primo sistema automatico di pagamenti al mondo ogni mese appunto ti verrà prelevata la quota mensile di 87 euro appunto se compri dal link che vedrai fa un po' anziché 117 compresa IVA per rimanere nella scuola quando deciderai di terminare basterà inviarmi una mail e verrai cancellato dal sistema e non dovrai più pagare nulla quindi se nel mese successivo decidi di non continuare basterà mandarmi una mail se non ci sentiamo quindi che continui a mandare gli esercizi e a lavorare vorrà dire che nel mese successivo ti arriveranno ancora tutte le lezioni tra pochi istanti ti apparirà il link che dovrai segnarti e riscrivere nel tuo browser quindi lo vedrai scritto tra poco basterà con carta e penna scriverlo scriverlo direttamente sul browser se stai seguendo in questo momento il video su un pc perché se hai magari il telefonino o stai guardando dall'iPhone o dal tuo tablet magari ti potrebbe diventare complicato quindi se vuoi te lo puoi scrivere a penna e da questo indirizzo qui solamente da questo indirizzo avrai diritto a questo sconto se invece vuoi iniziare il percorso col bonifico online perché non so non ti trovi con paypal o non riesci basterà in questo momento non sarà una cosa immediata però mi dovrai scrivere a relax.immobiliare chiocciolaiau.it e ti spedirò l'iban della società ecco che appunto è arrivato il momento ti sta per apparire il link per accedere alla tua formazione e avvicinarti alla tua prima operazione senza esperienza appena vedrai il link potrai scriverlo nel tuo browser e verrai indirizzato alla pagina appunto di iscrizione finale dove dovrai appunto pagare con paypal eccolo è comparso adesso prenditi un po' di secondi segnatelo puoi scriverlo con calma se lo hai fatto verifica se ti ha indirizzato alla pagina puoi anche mettere in pausa questo video e vedere se ti ha indirizzato appunto alla pagina se sei dentro la pagina puoi effettuare il pagamento io ti aspetto dall'altra parte appena ti iscrivi mandami pure una mail all'indirizzo che troverai nella home page dell'academy un indirizzo riservato quindi solamente per gli studenti academy io ti aspetto dall'altra parte così appena mi mandi la mail ci presentiamo ci conosciamo un attimo vediamo un po' chi sei insomma quanti anni hai di che cosa ti occupi nella tua vita e in automatico appena hai pagato ti arriverà il modulo di registrazione finale all'academy quindi appena schiacci il tasto di paypal paga adesso insomma termina il pagamento non chiudere nessuna pagina perché in automatico ti verrai indirizzata questa pagina di iscrizione se hai il blocco dei pop up sul computer mi raccomando disattivalo così potrai essere indirizzata automaticamente alla pagina di iscrizione finale comunque se avessi dei problemi dopo il pagamento basterà che mi scrivi al mio indirizzo di posta relax.immobiliare chiocciolaiau.it e te la spedirò io direttamente io ti aspetto dall'altra parte ti ringrazio di aver seguito questo video corso buon business da Francesco Gentile ciao grazie a tutti Grazie a tutti.